Salve a tutti e benvenuti in un gioco che si chiama Raze the Sun Non Praise, Race Però mi viene da dirlo allo stesso modo Ma vabbè Comunque, questo è il menu principale Dove ti dice di prenderlo anche sul tuo cellulare Se ti va E poi che c'è addirittura un DLC di questo gioco Comunque, adesso lo proviamo Semplicemente è un gioco Come potete già vedere qui nell'anteprima C'è un'astronave che vola e dovete evitare gli oggetti That's it Questo gioco si guida con le frecce Boh, prendiamo cose Come si accelera? Non si corre più di così? Oh, oh, oh Cazzo, 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 cazzo Non, 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 è troppo veloce, troppo veloce C'è un uccello che mi ha regalato oggetti Oddio, però, troppe palle Difficilissimo Oddio, raga, i riflessi Mamma mia, quanto ho giocato bene in questa Questa volata Non la posso chiamare run, è una volata Regione 2 È tipo il secondo livello Che mi aspetto che cadono cose? Merda Riprova Non c'è un... non so se c'è un altro livello Devi sbloccarlo facendo cose Oh, voglio Non l'ho preso mai Ok, cominciamo andando avanti Così Bella questa musica Anche se io l'avevo disattivata Mamma mia Liscio Liscio Che succede? Che succede? Che succede? Oh, oh, oh Ok Ok Vediamo le palle 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 Triangolini Cos'è sta roba? Ok 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 No, non riesco a prendere Ok Regione 2 Questa è quella Dove ci sono le cose che si spostano Abbiamo fatto un danno alla destra Eh no Mi schianto Tra più oggetti ci sono in questo posto Tra più oggetti No, ma mi sa che è solo questa la mappa Più vai avanti meglio è Perché Ma che palle però Andiamo a prendere direttamente lui Ma potevo prendere anche quello Non l'avevo visto in tempo Ok Grazie uccello Non so cosa accade in questi momenti In cui tipo il motore Si rallenta Che fa sto coso? Un cazzo Non so cosa prendo qua Spiegatemi Ok Thank you Prendo anche questo Grazie Regione 2 Questo non so cos'è ma lo prendo comunque Porca Difficilissima quella parte Quanto ho capito abbiamo Il magnetino che tipo Prende gli oggetti intorno Anche Senza prenderli in pieno Vediamo Vediamo Testiamolo Non sembra che sia accadendo molto Eh C'era un'altra cosa gialla Ma non l'ho preso C'è un'altra cosa gialla C'è l'uccellino di là però Io qua sto evitando tutto Proviamo ad andare in un'altra zona Proviamo Non mi piace questa zona Ok Abbiamo finito anche questo Non so come si attiva il magnetino Oh Vabbè Ci ho provato Questo coso non ho capito Come si fa Ad attivarlo Dai ci provo L'ultimissima volta Poi Lo chiudo Thank you Poi mi pare che ce n'era un altro a destra Infatti eccolo là E poi mi pare che sta a sinistra Quindi andiamo verso Di qua Ah no E' la cosa verde Grazie uccellino Continuo a non capire cosa accade qua Forse tipo Poiché Andiamo Forse a luce solare Magari la nuvola Quella roba bianca Sopra Perché diventa Improvvisamente notte Quindi magari è quello Non lo so Non ne ho La più fallida Idea Dammi l'ultima Grazie Ok Merda Io ti fotto E vado per di qua Oh L'ho superata E' un'azione Vabbè Questo era Raise the sun Spero che vi sia piaciuto Ci sono stati dei giorni in cui era Free to play Su steam E se lo prendevate in quei giorni Potevate averlo gratis Adesso credo che sia a pagamento Ma penso costi poco Quindi se vi va di provarlo Così Fatelo pure E' simpatico come giochino E beh ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao